Il titolo di crimini e criminologia, ma abbiamo già aperto una nostra rubrica come lente di ingrandimento, è rimasta in collegamento la dottoressa Fabroni, andiamo ad aprire un'altra nostra rubrica. Italia in giallo e nero, vediamo anche il titolo dell'appuntamento di oggi, il serial killer della Riviera nei Cedri colpisce ancora. Il riferimento è a Francesco Passalacqua e tra poco presentiamo anche l'altra ospite. Intanto ricordo quelli che sono i fatti più recenti avvenuti proprio a inizio 2024. Quella che a Tolè sembrava un'aggressione per problemi di vicinato si è rivelato essere qualcosa di ben più oscuro. Un tentato omicidio per mano dell'unico serial killer calabrese, Francesco Passalacqua, 55 anni, già noto proprio come il killer o serial killer della Riviera dei Cedri. Quattro le vittime attribuite a questo serial killer si macchiò di tutte queste nefandezze e poi nel 2000 venne condannato all'ergastolo. Le sue vittime erano per lo più anziani, contadini, uccisi in luoghi isolati tra i territori di Verbicaro e la Marcellina nel Cosentino. Tre anni fa Passalacqua è uscito dal carcere per scontare gli ultimi cinque anni di pena in regime di libertà vigilata in una struttura per persone fragili di Vedegheto ed è tornato a colpire nel Bolognese. Possiamo anche vedere le rare foto di Passalacqua ieri e oggi. Abbiamo diverse versioni di questo serial killer. Ecco, questa è una sua immagine. Ne abbiamo anche un'altra che risale proprio a quando poi fu arrestato e condannato all'ergastolo. Eccola quella nel riquadro in alto in piccolo, lì giovane. Oggi, come detto, ha 55 anni. Per parlarne, oltre alla dottoressa Barbara Fabroni, che come detto è ancora in collegamento, per la prima volta a Crimine e Criminologia, ha esordito, parlando di questo tema a filo giallo la settimana scorsa, però è un piacere avere la caposervizio del settimanale giallo, Albina Perri. Buonasera, benvenuta a Crimine e Criminologia. Ben trovata. Ciao, buonasera. Albina Perri che invece ha esordito non solo a filo giallo, ma anche alla storia oscura, su Radio Cusano Campus, quindi ci mancava l'esordio a proposito di Crimine e Criminologia. Qui il fatto, cara Albina, è questo. Cioè, una persona che è condannata all'ergastolo, si fa vent'anni, poi buona condotta e una serie di agevolazioni gli consentono di andare in questa comunità nel bolognese. Però, torniamo sempre a una vecchia tematica, peraltro il tuo direttore si batte molto su questo, lo dice sempre, no? Sì, l'ergastolo, però poi tra gli sconti di pene e tutto il resto, alla fine poi escono tutti. Il problema è che far uscire certe persone, serial killer, come passa l'acqua, poi si cade in quello che è accaduto. Sì, già non dovrebbe uscire una persona che ha ucciso una volta sola. Ha maggior ragione un serial killer, anche perché noi sappiamo che comunque la definizione di serial killer un serial killer inquadra un aspetto psicologico, cioè una compulsione a uccidere che non termina. Un serial killer non si redime con il carcere, mentre un omicida che ammazza per interessi economici, piuttosto che per altri motivi, tra virgolette razionali, può essere rieducato, può pentirsi, eccetera. Un serial killer no, un serial killer ha l'istinto di tornare a uccidere e infatti passa l'acqua, ce l'ha dimostrato. Quindi sui serial killer, perché in Italia per fortuna sono molto pochi, però bisognerebbe avere veramente un occhio di riguardo ancora maggiore. E secondo me non solo per i serial killer bisognerebbe stare attenti, ma anche bisognerebbe stare attenti con questa voglia di revisione dei processi che c'è in questo periodo, perché veramente rischiamo di fare danni e di tirare fuori dalla prigione persone che sono state violente e se sono state violente possono tornare a esserlo, soprattutto dopo aver passato anni in regime carcerario. Quindi molta attenzione anche a questa voglia di revisioni dei processi, perché potrebbe finire anche male. Vorrei a questo punto rivolgermi nuovamente alla dottoressa Fabbroni. Sappiamo, oltre alle sacrosante considerazioni di Albina Perri, che un fattore, un aspetto che rende particolarmente difficile anche semplicemente l'identificazione dei serial killer è l'assenza di un movente, l'assenza di una relazione personale, di conoscenza diretta molto spesso con le vittime. Nel caso di Francesco Passalacqua, possiamo dire che già a partire dagli anni 90, già a partire dal 92, quando fu autore del primo delitto immotivato, c'erano comunque gli elementi, gli indizi, ovviamente lui non fu subito individuato e catturato, ma c'erano gli elementi per capire che non ci si trovava di fronte ad un caso di semplice tentativo di rapina o di banditismo, che ci si trovava di fronte a qualcosa di ulteriore, a qualcosa di più dovuto a una sfera interna, certo distorta, ma comunque non tangibile, non perfettamente interpretabile. Beh, certo, guardi, allora il profilo di Passalacqua sicuramente è diverso dal profilo di una persona che fa un omicidio e resta fissato lì. Sono due profili completamente diversi. Passalacqua era un uomo che aveva già, come dire, una vita particolare che si radica davvero in maniera antica nella e allora della sua vita. Lui ha avuto un vissuto molto impegnativo, era figlio di una madre con tanti fratelli, una madre particolare morta in una situazione particolare, ha vissuto veramente, come dire, all'interno di una famiglia molto disaciata, una famiglia molto violenta. È chiaro che lui ha costruito quella che è la sua organizzazione di personalità all'interno di questa situazione molto disfunzionale, per cui ha trovato, come dire, passatemi il termine, come modalità di sopravvivenza quella di diventare appunto il temuto serial killer, per cui in quell'agito che lui aveva riusciva a placare quello che era il suo mondo interiore. È chiaro che in soggetti di questo tipo, sebbene possano rimanere all'interno di un carcere anche per 30 anni, ma questa modalità non cambia perché la loro organizzazione di personalità, quel buco nero che c'è nella e allora, un buco nero che resta e all'interno di quella modalità lui ha organizzato appunto, come vi dicevo, la sua modalità di essere persona, una persona che reagisce alla vita, allo stress della vita, al suo vissuto attraverso questa condotta omicidiaria. È chiaro che il suo profilo criminologico è un profilo molto particolare da non confondere, come diceva prima la dottoressa Perri, proprio con colui che uccide in maniera, si macchia di un delitto, però resta lì. È chiaro che lì la rieducazione è molto diversa. Sono due soggetti che hanno due tipologie diverse. È chiaro che Passalacqua lo ha dimostrato, è uscito dal carcere, ha cercato di reinserirsi per tre anni all'interno di una cittadina piccola, tra l'altro lo chiamano l'uomo avvenuto dal nulla, ma all'interno di questo la sua pulsione a tornare ad uccidere comunque l'ha condotto nuovamente ad agire contro un'altra persona. La cosa particolare è la tipologia dei soggetti che Passalacqua sceglie, che come dicevate voi sono tutti soggetti, comunque sono persone adulte, generalmente anziani, agricoltori, persone che sebbene possono stare, come dire, avere un buon reddito, quindi essere benestanti, però lui non porta via nulla da queste persone. C'è proprio questo impulso, questa azione di andare verso l'altro e togliere la vita all'altro. E qui racconta chiaramente la narrazione della sua vita. Tra poco torno da Albina Perri, però volevo dare qualche notizia ulteriore a proposito del nuovo arresto di Passalacqua e dell'ultimo fatto di cronaca. Perché il serial killer della riviera dei Cedri colpisce ancora? È stato un miracolo che poi non si è riuscito a colpire realmente. Perché in mezzo a tutto questo percorso rieducativo definito esemplare da chi gestisce la comunità nel bolognese, ecco il tentato omicidio del 4 gennaio scorso. Era l'alba quando l'agricoltore 65enne di Tolè è stato aggredito nel suo cortile di casa da uno sconosciuto, il quale, apparso dal nulla in bici, lo ha accoltellato senza motivo all'addome e al braccio sinistro. Una tragedia solo sfiorata grazie alla reazione della vittima che è riuscita a difendersi mettendo in fuga l'aggressore. I carabinieri di Vergato, coadiuvati dai colleghi del nucleo investigativo e dalla sezione investigazioni scientifiche, hanno subito ispezionato l'area dell'agguato. Tra le macchie di sangue è stata recuperata una catenina con un crocifisso con un pelo attorcigliato che la vittima aveva strappato dal collo del suo aggressore nel tentativo di evitare le coltellate. Ecco, grazie a questi elementi e alle testimonianze di alcuni residenti i carabinieri hanno appreso che era stato avvistato un ciclista solitario a girarsi in zona e scavando più a fondo hanno scoperto che si trattava di Francesco Passalacqua poi riconosciuto dallo stesso accoltellato e così è stato nuovamente arrestato. Ecco, per dire Alvina Perry, se non ci fossero stati tutti questi elementi magari il protagonista dell'aggressione non sarebbe stato individuato e questo signore avrebbe potuto continuare tranquillamente ad aggirarsi in quelle campagne e magari colpire e uccidere magari, no? A aggredire qualcun altro, certo. E a fare un altro omicidio. Il fatto che noi non troviamo una logica non vuol dire che non ci sia nella sua mente, chiaramente, quindi una logica sua, però le vittime appunto hanno tutte una certa età, sono agricoltori, quindi nel suo cervello deve esserci qualcosa che gli scatena questo impulso. Tra l'altro, non so se è notizia abbastanza recente, che lui è indagato anche per una serie di incendi che ci sono stati in zona, una trentina, perché lui tra le altre cose, oltre ad essere serial killer, aveva anche l'impulso di bruciare. La triade di McDonald's, sia da piccoli i serial killer, no? Hanno incontinenza notturna, torture sugli animali e piromania. Questo per dire di chi stiamo parlando, no? Perché una trentina di incendi della zona risulta che lui fosse da quelle parti, quindi adesso si indaga anche su questo. E poi, Albina, mi viene anche da sottolineare il fatto che sono state sì fortuite le circostanze che hanno permesso di risalire nuovamente a Passalacqua dopo la sua liberazione, però quantomeno questo oggi è stato possibile. Questo, secondo me, apre degli scenari, da un certo punto di vista, spaventosi, da un altro punto di vista, invece, anche un po' ottimistici. Chissà quanti, magari, potenziali serial killer sono stati subito individuati dopo il loro primo delitto e reclusi nella ricostruzione, nel pensiero che abbiano commesso un delitto non maniacale, ma ordinario. Invece, magari, non era un omicidio ordinario. Anche questo è un punto su cui riflettere collettivamente. Esatto, per quello dicevo di fare attenzione quando si richiede troppo facilmente di rivedere casi del passato, perché noi non sappiamo esattamente cosa ha scatenato la violenza. In questo caso c'è stato un pelo nella catenina e quindi, grazie all'evoluzione della scienza, siamo riusciti ad arrivare a Passalacqua, ma immaginiamoci che questo delitto compiuto 60 anni fa, questo delitto, questo tentato delitto compiuto 60 anni fa, probabilmente non sarebbe stato neanche risolto. Quindi le nostre tecnologie sono utili, ma bisogna fare sempre comunque attenzione. Attenzione, soprattutto con soggetti come Francesco Passalacqua. Un po' di omaggio anche alle vittime di Passalacqua, al di là di chi ha rischiato la vita nel bolognese, ne abbiamo parlato. La più giovane delle sue vittime, Mario Montaspro, aveva 45 anni e buone disponibilità economiche. Passalacqua è stato riconosciuto colpevole di aver atteso che l'uomo si addormentasse per poi aprirgli il cranio con un blocco di cemento, facendosi aiutare da complici. Dopo una lunga e tortuosa vicenda giudiziaria tra indagini e processi, viene condannato nel 1999 a 24 anni di reclusione. Intanto però, 5 anni dopo, tra il marzo e l'aprile 1997, 10-20 km più lontano dal mare, a Santa Maria del Cedro e Verbicaro, faceva altre tre vittime. Salvatore Belmonte, 59 anni, con il collo schiacciato con un piede. Vito Michele Resia, 72 anni, freddato da tre colpi di pistola. Francesco Picarelli, 63 anni, all'inizio era sembrato un incidente, poi si è appreso che era anche lui rimasto vittima di Francesco Passalacqua. Tutto per portar via nulla che giustificasse tanta violenza. Si è parlato di un ladro di polli che poi è andato a uccidere. 30 polli, qualche fucile, le perizie psichiatriche parlarono di un leggero vizio di mente, stabilendo allo stesso tempo la capacità di intendere e di volere, mentre bagnava col sangue le coline calabresi e diventava il serial killer della riviera dei Cedri. E allora chiedo alla psicoterapeuta e criminologa, dottoressa Fabbroni, è difficile, lei prima ha provato a tracciare un profilo di questo serial killer, però noi quando ne parliamo di serial killer inquadriamo in varie categorie. E quando si parla di serial killer che uccidono per appropriarsi di qualcosa, si parla di serial killer a scopo di lucro o per tornaconto personale. Ma è questo veramente l'obiettivo di Passalacqua? Oppure trova proprio un piacere a uccidere, non tanto per sottrarre polli o qualche fucile? Beh, guardi, l'idea che mi sono fatta io che Passalacqua molto probabilmente nella sua modalità di organizzare la sua vita e soprattutto, come vi dicevo prima, anche nella sua organizzazione di personalità, molto probabilmente le tracce che lui ha all'interno di sé, ha un vissuto traumatico, bisognerebbe capire che cosa è accaduto realmente nella sua infanzia, nella sua adolescenza, che poi tra l'altro lui si è anche macchiato in adolescenza, in prima età adulta comunque, di piccoli delitti, di furti, di incendi, di varie situazioni comunque deliziose. Sionali anche, ad altre persone. Esatto, giungendo poi soltanto in un secondo tempo a commettere dei delitti. Quindi molto probabilmente in lui c'è la spinta ad uccidere l'altro, quindi a creare comunque, come dire, a strutturare la morte nell'altro proprio come soddisfacimento di un qualcosa che è radicato all'interno di sé. Passatemelo, è un po' una spinta alla sopravvivenza, questo atto delittuoso che lui mette in atto, ma una spinta alla sopravvivenza che arriva molto probabilmente a, come dire, sedare qualche cosa che lui ha all'interno di sé, ha nella sua organizzazione di personalità e qui giustamente una buona perizia psichiatrica ci dovrebbe aiutare a condurre e a comprendere che cosa si smuove anche nel suo ricordo del passato e come lui ha costruito il suo essere nel mondo. Perché vede il lieve vizio di mente, come è stato detto dalle perizie psichiatriche, chiaramente non incide sulla capacità di intendere e di volere, ma sta proprio lì, perché il serial killer, nel momento in cui uccide le sue vittime, oppure organizza, come dire, il piano per uccidere individua la sua vittima, è lì che prova piacere, è lì che c'è quel piacere che porta a, come dire, a superare quel trauma del passato e quindi lì c'è la sua capacità di sopravvivere a quel trauma. Per cui ci deve essere un lavoro molto attento anche da parte di clinici che comunque prendono in carico queste persone e cercano di comprendere che cosa si smuove e si muove all'interno della loro modalità non soltanto relazionale con il proprio sé, ma anche con l'altro da sé. È una cosa molto difficile, perché poi queste persone hanno anche la grande capacità manipolatoria dell'altro, per cui ci vuole veramente molta attenzione, non soltanto una modalità di condurre, come dire, un colloquio psichiatrico significativo, ma aiutarsi anche con la testistica e comprendere a distanza di tempo che cosa si muove all'interno della persona, perché queste figure poi, quando sono all'interno di una situazione carceraria, hanno chiaramente, come in questo caso, una condotta ineccepibile, ma questo non vuol dire che il problema è risolto. Questo vuol dire che, come la gran parte dei serial killer, il problema è lì sedato in attesa che poi possa scatenare tutta la rabbia e lui possa riprovare nuovamente piacere sia nell'organizzare quello che è il suo delitto, individuando il soggetto e poi portandola a termine. Albina, vorrei peraltro ricordare che oltre ad essere ancora oggi definito il serial killer della riviera dei Cedri, molti ricordano Francesco Passalacqua anche come l'unico serial killer noto della regione Calabria e colpisce il territorio, ovviamente, in cui tutto questo ha avuto inizio, mentre molti sono i nomi di serial killer che provengono dal centro, soprattutto dal nord Italia, sembra effettivamente esserci un po' una carenza per quanto riguarda il mezzogiorno. Tu credi che nel corso degli anni, soprattutto degli anni più caldi, insomma, delle azioni della malavita organizzata, molti individui, molti soggetti con una psicopatologia da serial killer possano essere stati effettivamente inglobati, inclusi, in un certo senso cooptati da gruppi invece che avevano dei fini molto chiari, non soltanto di natura, come dire, sadica, perversa e psicopatologica, ma che si sono serviti ipoteticamente di individui di questo genere. Tu ritieni questa una possibilità? Assolutamente sì, anche perché sono persone che appunto trovano piacere nell'uccidere e quindi possono essere anche loro che si mettono a disposizione o che si sono messi a disposizione in passato per fare il lavoro sporco anche della malavita organizzata, perché no? Tra l'altro in questo caso di Passalacqua il territorio ha aiutato alla cattura perché è stato proprio il sindaco di uno dei paesi in cui Passalacqua aveva colpito che ha fatto un lavoro per individuarlo e per riuscire a trovare le prove per incastrarlo, aiutato dalla popolazione. Quindi è un caso in cui il meridione ha dato invece grande prova a livello civico, di senso civico, anche perché comunque la paura si stava diffondendo dappertutto, le persone non andavano più in campagna, avevano comunque, si era diffuso il panico di questa persona che poteva uccidere persone non anziane e quindi con difficoltà a reagire nei campi. Quindi il territorio assolutamente può essere stato in questo caso utile e in altri casi invece aver sfruttato queste persone con patologie per commettere crimini. Visto che siamo quasi in chiusura, non abbiamo le copertine, però io voglio dare dei consigli di lettura. È vicina la Santa Pasqua, la prossima sarà la Settimana Santa, tanti andranno in ferie, quindi gli appassionati di crimine possono eventualmente leggere i libri di Albina Perri, ma non per niente, per qualcosa, diciamo, perché è la nostra ospite, ma perché sono dei libri, uno in particolare che ci riporta a quello che poteva essere, per fortuna non è stato, il delitto imperfetto, nello specifico, cioè nel fatto dell'ultimo tentato, omicidio del serial killer Francesco Passalacqua. Faccio riferimento a delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, in questo caso poi appunto parliamo di persone che sono state arrestate, però ci sono anche tanti delitti che alla fine riescono, in questo caso abbiamo sentito un pelo che è servito per individuare Francesco Passalacqua. E poi, soprattutto chi ci segue dalla Lombardia, da Milano, il medico dell'Inter, ucciso a Porta Romana e altri delitti, 1988-1999. Questo per dire appunto, volevi aggiungere qualcosa? Sul medico dell'Inter, peraltro, abbiamo realizzato proprio di recente una bellissima intervista a Filo Giallo in compagnia di Albina, che ha chiarito alcuni aspetti veramente molto importanti. e poi magari, quando avremo modo, ne parlammo già alla storia oscura su Radio Cusano Campus, quindi se volete recuperare i podcast, li trovate su radiocusanocampus.it, basta cercare Albina Perri o delitti imperfetti, li trovate, interviene anche il direttore Vittorio Feltri in una circostanza con Tiziana Ciavardini. Albina, è così poi di fatto, basta poco per rendere un delitto perfetto o imperfetto, anche se, e ce lo insegna anche Alfred Hitchcock, il delitto perfetto non esiste. Esiste, non esiste, almeno una traccia viene sempre lasciata, poi può esistere l'assassino fortunato, per cui questa traccia non viene coperta, non viene analizzata, però una traccia in qualche modo la lascia. Grazie Albina Perri, capo servizio del settimanale Giallo, naturalmente con cui siamo in sinergia, viene tra i programmi segnalato Crimini e Criminologia, come programma da non perdere, ogni settimana su Giallo, Giallo in edicola ogni giovedì. Grazie per questo intervento di stasera. Grazie a voi. A presto, naturalmente, sia qui che alla Storia Oscura, grazie invece a Colè, che ormai è un po' una compagna di viaggio, sia per quanto riguarda la Storia Oscura, che per Crimini e Criminologia, la dottoressa Fabbroni. Grazie e buonanotte. Buonanotte. Grazie a voi, grazie a voi, buonanotte. Ci sentiamo martedì in radio, come sempre. Tra poco l'ultima parte di trasmissione.